Oh, siamo in live, siamo in live, aiuto, siamo in live Andreone in live Ok, boh, te puoi iniziare a fare che cacchio vuoi, sinceramente Andreone fa quel cazzo che vuole Ora, spammo Rimani lassù No, perché sono lì su? Ora se mi connetto esplode, secondo me Oh, proviamoci Aia Porca troia Le mucche belle Qui c'ho il mouse che è molto lento Ok, io sto qui, intanto vado a spammare Ok Te Andreone puoi anche parlare? Mhm Fai come se fossi a casa tua Anzi, in casa dei nabi, direi Ando renderinti anche? Sì, un attimino Andiamo a prendere il liquame, va Un giorno mi piacerebbe fare in live anche... Uh, ciao Antonio Antonio, ciao Antonio Ciao Che figata la chat così grossa Minchia Una scoperta è stata È stata una scoperta È carica? Volevo dire che non mi ricordo più Volevo dire che... 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 Quasi piena 3, 2, 1 Via Ok Piano Fate un server Sì, siamo in multiplayer Però locale Il multiplayer è locale Antonio Che figata Un po' zozza è sta spargi merda, vero? No No, dai Si sente la puzzazzina qui, ragazzi Mamma mia Chi è che ha sganciato? Le mucche? Spero di no Qua come si muove? Guarda Guarda le sospensioni Manca del... Del coso Fa le sospensioni Guarda Vedi Uh Che spettacolo E poi quando è piena È peggio? Sì Quando è piena, sì Ti ribalti anche Eh, qui noi qui abbiamo tante mod Intorno ai 5 giga Senza mod non l'ho Eh Tante mod Qui siamo stra pieni di mod Ok, questa l'ha fatto Eh Guarda qua che getto Oh, bella roba Così si fa Aia Cos'era questo? Poi, papi Come si chiama il server? Il server non è pubblico, Antonio È in LAN Siamo in LAN Anche perché ci sono tante mod Quindi non riuscireste a entrare Nel nostro server Ah, guarda qui C'è da seminare, eh? C'è da seminare Addirittura Te prepara il terreno Che poi veniamo anche a seminare Oh, senti questa canzone? Eh Bella Grazie a NCS Per queste fantastiche musiche Voilà Ho definito il campo Tac Ciao Ciao Chissà se potrò entrare Eh, già È un privato 50% della botta È già finita Come è già finita Oggi che lavori abbiamo da fare? Oggi si fa tante cose Come sempre Spero che arrivi una grande offerta Così almeno si vende tutto Si compra un trattore power Ah, mi sa che la finisco Non ce la fa Chissà se con un altro piano ce la faccio Fatta roba Uh, guarda come piega Voilà Voilà Tweet compara anche il contenitore oramai si è già finito di di fertilizzare eccola come fate ad installare le mod guarda come si muove anche la cloche assurda e la tastatore si muoveva anche con la bigass ah si? in avanti e indietro? mh bello poi bacchena melaviglia 50 orari fa eeeh in che se ne da? miau e qua la curva brutta ci si è ribalta altro pieno i bossini ah ops sono un po' con le ruote alzate che dici? nooo e si muove? si che si voglio vai vai e se i freni non si fermano? no no non tutte non tutte via uh derapa derapone? caro di andà piano anzi va facciamo gli sboroni scendiamo anche a questo cosa serve? ah nulla no cos'è? mettiamo i contragiri nooo che figo questa funziona ovviamente quell'altra quella da destra no no è fisso? che peccato ma guarda i contragiri beeeh che oma viene da? oh chi era quello che è passato? eh indovina ero io? mh e vai in giro da solo no in giro no è solo che in giro te lo vedi non è che sto andando avanti senza volerlo no no son fermo qui ho una prova di ribaltarmi non sai quanto perchè? si ribaltano? con questa botta qua dietro si ah meeeh piano qual è? qua abbiamo lasciato cos'è quello? eh quello da pralama eh vai c'è gente che ha fatto anche i murales nei muri in questa mappa assurdi eccoci ne che ha fatto ah guarda un po' qui ciao luca ciao luca oh si vede anche la chat ah si vede benissimo la chat nella live ci siamo evoluti oggi ci siamo evoluti una roba importante ok carica bello no Antonio siamo nel nostro server oh che è sgommata allora ok sta già spruzzando? si oh ci diamo anche i lampeggianti che fanno sono carini carini e la veniva proprio per mettere più zoom è fissa così così si ah minchia no ah finito voilà ancora il 50% ciao Nico ciao ciao ok ora viene a seminare mhm ora sotacazzi io spammo allora c'ho l'arduo compito di spammare guarda qua come si muove la telecamera Fatto bene, cacchio Tirala, tirala Ma come sale? Spettacolo Allora La semino è qui, quindi lasciamo Ti sei preso poco, Nico? Abbiamo appena iniziato Già Va bene, va bene Prendiamo questa, va Azzo Ok, devo togliere quella accanto alla mucca Ok Ok, questo non è... Ah, non sono configurati Sto scaricando la patch di Watt 9.14 Oh, vedi già? Sono perso Dov'è farming? Andarci a farm, eccolo qui Ok, sì Fammi pieno di semi Via Online anche su questo Bella roba Allora Allora, veniamo a seminare Abbiamo fatto colza 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 Ok Hai comprato nuovi campi? No Andiamo a fare quello più grande Prima, va? Mi pare Mi pare giusto 5 spettatori Dice Dice Twitch Non la patch ufficiale Ma il test server Ah, beh, sì, sì Facci sapere com'è poi Noi ancora non l'abbiamo provata Eh, no Allora, vediamo se l'operaio voglia di lavorare oggi Proprio ora che vado in pausa su Watt Fanno le aggiornamenti pompa Con tutte le cose fiche Ok Ok Ok, fra poco entro anch'io Vado a giocare Sto controllando che tutto sia a posto Oh, funziona Sì, ci dovrebbe essere tutto Mettiamo di qua Allora, sono un po' al di là Ok L'ha preso Diamo di più potenza Vai E poi mi serve Questo Lo rifattiamo a posto Oh, che figo Lascia il messaggino qui, guarda Clic E va Sti cazzi Come siamo professional today Oh, che c'è dalla partita Oh, non fregazzate Ok, Carlone c'è Ora vado a prendere un attimo acqua C'è già bloccato Ma Via di Gesù Chi è? L'omicena? L'operario Eppure non è difficile Eppure non è difficile Fa vedere come si fa Va Ah, guarda Guarda Raffa Bravo Nico Fatto bene a comprarlo Allora Ci vuole più potenza Allora ci pensiamo subito Ok Andiamo a prendere Il New Holland Ok Grazie a voi Mi sono andato a farlo Uh, è quello? No, sì Che l'avevi visto Ploff Eccomi Ci sono di nuovo Ok Che faccio Androne? Abbiamo 70.000 Dove andiamo? Come si mi mette O mettiamo Sì, sì, sì Dai, si mi mette Vengo lì Qual è il tasto per correre? Questo Questo Minchia, trapassa ogni cosa Vai, vai, vai In che campo sei? 18 Qual è il campo 10? Guarda Cambia Vieni su questo blu Vai, vai Oh, eccoci qui Hai già acceso tutto E quindi? Quindi basta che parto Devo solo andare? Mmh Come si to... No, non la tolgo Come si toglie questo? F1 Devo solo andare? Com'era lo zoom Più o meno? Quei... Davanti e indietro Ah, eccolo Minchia Mi devo riprendere i comandi Sì E' così Oh, lo vi sto da dentro Madonna il rischio Andiamo Topirra Quasi ribaltato Minchia se tira Marianna Ah Mi divido il coso in due Proviamo metodi di coltivazione alternativi Guarda Lo laviamo per bene questo? Bello Sciacqua Ma sto piantando? Sì Sì Minchia Scende pochissimo Scende di pochissimo Oh, come nuova E' normale che le rappe ne pianti una ogni tanto? Sì Ah, è così proprio fatto così? Mhm Ok, la foto è già aperta Pam, 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 pam Io non sei riesco a fare la manovra da pro Oh Ecco da dove è iniziato Ah, c'è poco sterze Qui qualcuno è andato dritto Ok, questo si è chiuso Vuoi tenere quel trattore te? Sì, sì, va benissimo Allora io lo lascio qui Vado a me veloce E andiamo a prendere questo E finisco di mettere la legna Ok, qui sta andando senza grossi problemi Aia No Gira, 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 gira Bella anche questa canzone Tututututututututututututututututututututu Come la sentite l'audio ragazzi? Si sente tutto bene le nostre voci? L'audio del gioco? Della musica Soprattutto Yeah Ma si sono 4 tronchi Aspetta Ecco prima ho schiacciato Ok Che cazzo ho schiacciato Il 5 Del non pad Come si fa a rimettere la visuale al centro Eh qui non c'è Ah non c'è Ah Ecco perché Ho abituato bene cazzo Ho abituato bene Eh Toglila e rimettila Ok Opla Gira Piano Piano Oh sente l'odore di quel macchinario Ah no Non stai più sporgendo la cacca Allora l'ho messo Allora chi è che è scorreggiato? Eh te Chi la sente per primo Di solito la fa Quindi Zacc Ha tutta birra Ok Qui ho schiacciato un pezzo Come sempre Girare Ci saranno ancora i problemi Che non becca il terreno giusto Sì Purtroppo sì Però volendo Se faremo un po' di soldi Shoppiamo? Ci shoppano quelle lì Non c'è neanche il cruise control Vero su questi trattori? Sì Tieni queste due e queste Azza no Dai è semplice Dopo ci provo Dopo ci provo Scegli un po' te Il 3 Se non mi parto il computer Non tutti i fili che ho sulle mani Oh ne ho presi due Tensione Infatti mi cascherà subito Eccolo Ahia qualcuno non ha raccolto Quello che c'era prima Piano Zaccati Metallo quasi finita La donna stir up e convengono Non vanno giù neanche a pagarle Eh purtroppo sì L'erba va giù Come una cosa Miano Le mucche mi sono messe a proposito Mucche per il 100% Ciao Alepro Girare Bellale Paglia Le fazio Ah abbiamo un po' di latte da vendere Gira Senta anche questa canzone Picchia Voilà Girare Opla Fatta che io In teoria Si proprio Vende anche sto Ce l'avevo L'ho scaricato Vendi vendi No Non ve lo dire No Non l'ho messo Che cosa? Ma hai ragionato Tutto il pacchetto mod? No Cosa cosa ho aggiunto Ah ho messo questo Ma non l'altro Maremma Forse è qua Sudicia Girare No Non ce l'ho Peccato Era un rimorchietto Come questo qua Piccolino E solo senza braccio Caricare con le Forche normali Del detattore Girare Dai che ho quasi fatto Qui Oh Mi sa che mi ha fatto Aiuto aiuto Mi si bagga Mi hai preso due insieme Eee Grazie Non volevo prenderlo Tutto e due insieme No Lo buttavo fuori No L'albero No Dove cazzo Mi sei incastrato Ok 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 Che poi mi viene da quello L'altro schermo Per Per il chat No Per Che vedo lì Le immagini muoversi No Che gioco Ah ne se ne avanzai solo tre Ben Ah quasi quasi lo vendo Questo carico Oh Senza mani Ecco il pezzo dove Rompe il cazzo Guarda eh Eh sì E io giro prima E vaffanculo Uh questo è grosso Ma la calone qua Con la scoppia Un'altra volta L'ha fatto un pulito Eh 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 Abbiamo fatto La deforestazione Totale Ok Oh qui è rimasto un pezzettino Aia Pezzettino Vigile Ok voilà ecco l'ho preso non cadere non cadere non cadere oh guarda come si fa la bomba guarda qui come lo metto questo spingendolo ok guarda come è piccolo eh ti 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 dritto eh ok perfetto c'è qui due ramini che non lo faccio mo lo prendo e andiamo a vendere questo carico vai si guadagniamo qualcosina che ce la compare un po' di cose e ma io su youtube qua perché la connessione scassa è inguardabile eh perché è così aggiungi un tot di follower dopo te l'attivano sul canale che te poi scegli la risoluzione già però se mai facciamo su twitch mai riusciremo a crescere anche su questo canale ok ah qua c'è carlone laggiù si ciao ciao andriane si ecco perché mi lagga ecco perché mi lagga come si spengono ehm questo è questo è nella tastiera questo è questo quale scusa questo è questo f spenti tutto no spento tutto buh guarda là fuori no ora è spento tutto ah ora facciamo la unità minchia ora faccio 60 milioni di fps ciao filomena da scaricare filomena 93 eccolo che come viene da ora oh guarda davanti a fps oh ho sentito soldi big money eh ho scaricato la nuova maniera siamo dei poverelli con solo 93 milioni di euro no 93 mila euro non sono magari e qui gli altri soldi ci sono sotto cosa sono e sono le entrate dei trucchi ah minchia 2.000 a 1 guarda carlone ciao carlone ciao c'è carlone ciao mamma sono in tv cazzo carlone stai scazzando il tutto bella figura è un'azienda seria questa ho scazzato tutto tipo a me continua a bloccarsi eh immagino se non è una connessione potente non riesci a vederlo in hd guarda se a caso stai scaricando qualcosa forse ti blocca anche quello se no prova a guardarlo dal cellulare o digli a mammina di scioppare la fibra eh o al papi ue papi scioppa la fibra ne o girare oh non mi manca molto direi che altre due passate ci siamo su questo trattore puoi salire anche con me o è solo su quello verde eh su quello mi fare di no che alcune mod ce l'hanno come due passaggiere girare aia no 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 ti sei bloccata aia udn spa spa veramente quasi lavora duro stiamo sudando sette camicie fermatelo che è successo che è successo non scende da tattore mentre sei in velocità perché continua ad andare avanti si mmm brutta casa abbassiamo qua ora la mettiamo dentro guardate quanto è legna ha cadastro minchia ci siamo riempiti di legna è quella che nell'ultima live avevi tagliata ci abbiamo dato secche proprio questo perché non l'ha preso ok no ma c'è uno sputacchio di là in fondo ma che si fa così ah fendi il trattore oh oh e dove rimango ok ah ecco perché è bloccata perché c'è troppa legna perché è pieno dov'è il monetto eccolo l'altra guarda ho finito il letame no e ora come fai cosa dobbiamo aspettare senza la cacchina si mette lì in automatico ciao kionna come va come la va in alcune mappe devi proprio andare te con la pala e pulire la stall solo che non esiste la mappa come la voglio io da me non me la so creare quindi ho provato ok mi sa è qui ci sono quasi facciamo le ultime prove di là ah ecco questo monetto va la ma dalle buche anzi va a cagare quella parte la lascia così va si quella parte dove è neanche ci sto tanto a a rompere facciamo qui gli ultimi rimasugli ecco qui ce n'era un po' aia 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 la pianta ok scegli un attacco da mettere oh oh cos'è questo non l'ho mai visto nemmeno io nella mia carriera e questo e questo è una mod ok Andrea ne mette le mod che neanche sa no ma queste ce ne ho diciamo che sei fuori che è solo che senti qui ho finito come si chiude b se non erro premi la v premi la x la x bella dove lo porto nell'altro campo a sinistra devi andare dove c'è la rotonda ti ricordi si ok quello è un po' mezzo quello tutto a cazzo di cane va bene piano che poi non ti ho fatto una cosa figa di questo moletto vado vedi ora vedi che giro in 4 volte stessanti si ora esplode no no cos'è del che tasto devi premere aspettate ovviamente questo a posto va so già che succede se no allora qui ci mettiamo ecco qui c'è l'entrata io direi di entrare proprio da dove c'è l'entrata così va a far vedere un po' ok queste le andiamo a vendere dopo sono 4 allora ho detto del ok vada oh no ma che figata no come fai a girare così non lo so non si gira poi c'è che spettacolo sono davanti eh poi c'è solo dietro come minimo anche 4 note stessanti c'è anche solo dietro eccolo forse era quello no sono solo queste tre dove cambia scusa è lassù in alto ah owl wheels crab no questo è granchio il crab mi sa vero il crab è un granchio crab è un granchio allora io volevo comprare questo qua ragazzi questa mod qui ok qui si inizia a dare papapam facciamo prima non leggiamolo per un'ora che voglio vedere come funziona oh server rental contract tranquillo so io no guarda che mi ha preso quella parte lì no guarda questo no via mi fa veloce al limite parapaparapam questo nuovo rimorchio in teoria da quello che ho visto si può aprire anche le ponde del carro e metterci la roba l'avevo scaricata per quello guarda qui come si alza oh oh ole minchia oh 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 questo non andava benissimo oh che bellino che cazzole mi ha saltato cos'è questo piccolissimo rimorchio minchia di forza l'hai preso non è un rimorchio change capacity oh porca troia bellino anche piccolino piccolino attacco che cazzo e però come si fa cazzo cazzo nooo i veri che ne conosco troppo le mode guarda stupendo ottimo acquisto anzi aspetta no che acquisto molleggiata per vedere com'era guarda ti fa un colpo di lag ok 16.000 euro spesi bene ora carichiamo quei pancali ok mi dovrebbe comprare il pizzellone lo sai cos'è il pizzellone? quello per tagliare la radice dell'albero mmm così gli diamo una bella pulita e poi possiamo anche piantarli oh minchia pericolo ho vai autostrada nessuno me lo dice su nooo lo devo tagliare che palle sto campo non è nostro eh qui c'era c'era tantissimo un problema in questo campo si possono rivendere? proposto scena eh ora si inizia adesso E lì bisogna un po' l'altro campo Per vedere se si risolve Gira Ok Ma li posso attaccare un altro di questi? Uh Cosa vede qua? C'è un altro campo Brutti pensieri Brutti, brutti pensieri Prima o poi lo facciamo Open Dai madonna Ok Ho beccato No, l'alberello Ho beccato l'alberello Piano 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 Attenzione dietro Girare Ma ci sta sopra uno? Minchia Devi aprire le sponde Minchia, guarda che sono grossi Sono lunghissimi Sono lunghissimi Dai, è grande Se puoi aprire le sponde così No, mi dico questa no perché No Vabbè, facciamo sì Spoggerà un po' l'indietro Carico eccezionale Le mettiamo il cartello Esatto Esatto Piano Piano Andiamo un pochino più avanti No, guarda Guarda di pochissimo E se lo richiedi che succede Salta in aria Spero di no Spero di no Piano Più su Due forse non li carichi Uno sopra l'altro Uno sopra l'altro Quello sopra mi Cade sicuro Sicuramente Provalo Andracce Provalo Allora Attack Ballex La prova del nove Ok, sì Eh, già scivola Frena Ehi Ehi Mi arrivi in capito Che arriva in testa Va giù alla prima curva Ma quello sotto sta No Ribaltamento in vista Scrive Filomena Eh, sicuramente Già Ma c'è anche i lampeggianti Va Oh, qui si fa due ruote Oh Cius Cosa ho visto Che cosa ho visto Ho visto anch'io Non è da abbia di curva Te che dici Un curva non mi sembra Gran Cristabile Eh Piano Anche questo campo E' stato seminato Ma Aspe Ah Ma la colza sono rape La colza è la colza C'è scritto rape Sotto Colza rape No Fosa la soluzione In inglese si chiama rape Ok Io ho fatto Dove si va Ok Quindi abbiamo due campi di colza Dobbiamo fare un campo di Miau Vado nel campo Tre Dai Me lo devi scaricare In automatico I Dineros Io vorrei che cade Non di qua Questo campo Bisogna fare Vero E' anche quello accanto De che è Eh te lo dico subito Allora 125 Metti l'orzo Vai Ti fa un pezzo di torta? Ce l'hai? Al cioccolato? Facciamo 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 quella Quella in live Facciamoli gola Angie Mi scaldi un po' di torta? Andiamo ieri E se che Opla Che non hai visto nulla Vedi? Allora Apriamo Icchisi Dai E' carino Cos'è che devo coltivare qui? Orzo E com'è che si cambiava? La O Erva Frumento Orzo Lo sto già crescendo Guarda qui I calloni Finchia Parca troia Guardalo Come gliene diamo? C'ho il peso davanti Sì Beh Se no Gli compravo Il pisellone Cose Dai E' una grande offerta Una sola Di colza Casomai E ci si fa I big money Come te ne accorgi Che ti fanno le offerte? Ti esce scritto Ti compari Il rettangolo Grosso Ho una brutta sensazione Per cosa? Che non sto piantando No Si stai piantando Ah è vero Porca di quella Ora devi andare un po' scemo E io come cazzo faccio? Ah quindi ho ripiantato sullo stesso Ah è che sei riposato due volte lì Troia Eccolo E qui Oh da dentro si vede un pochino Babà mia C'è da dire te i ciechi Questo lo lasciamo qui Questo campo E' per i ciechi Non si capisce niente Non si capisce dove inizia uno E dove inizia l'altro Ora vado al negozio Shop Una bella sterzata Così Lineare Oh forse lo stesso Vedo un pochino meglio Eccoci arrivato al negozio Via Micro lag Micro lag Questa va 5 mila euro Ora non è tanto Ora capisci perché l'ho chiamato Secret Prima Che bestia Andrebbe messo davanti Funziona anche lì indietro E poi che ti da con quell'ero Sparisce solo il ceppo Ti da anche qualcosa No a v Parigi è basta Ok Ah qua ce n'è già uno Vedi Oh si lo macina proprio Ma devi scendere giù per finirlo E se lo fai sul tronco Sono bassi e vanno via subito E nel tronco vero Non lo fanno Lo tocca No Vediamo se questa va via Sì Nella via Perfetto Così ora Qua non ti incastri più Quello trattore Che è un pericolo Sack Metti stanzone Spacca vero Qui ne da Anche questo campo È stato Orzato Ah qui c'è il laghetto speciale Ah quello dove ci passi sopra Aiuto 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 Eh ma non fa veloce Sai che quando ci rigioco Questo attrezzo era buggato E che facevo? Eh Stavi così Mezz'ora E non succedeva nulla Ma quello è un attrezzo Non è una mod No no Cos'è il gioco Gira L'altro campo che si pianta Sempre Ho dovuto ci vai E allora ci va diretto Ah invece c'erano anche questi cifuglietti Chissà se vanno via con questo attrezzo Sembra? No questo è un tronco normale Proviamo Oh discesa Aiuto No Che succede? Ti sei inglobato? No Forse l'ho già tagliato Spero Se no l'ho tagliato io Li sto tagliando Lol No Stai tagliando gli alberi Stai tagliando gli alberi Sì Madonna Madonna Che Che È andato via È andato via Di che cos'è questo Raccolto Questo campo prima Colza Cazzo Stai riportando Ah no Questo è orzo Minchia la colza è invisibile Dopo che la tagli Eh infatti andrebbe Coltivato Così almeno lo vedi meglio Ah Eh no Vedi In alcuni punti vado un po' a cazzo Ora Vuoi consigli Abbassi tutta la visuale Cos'è Ancora Ah però vedo un cazzo Ah vabbè No Non fa più togliere Vabbè Io voglio alzarlo Cosa E dai Ah non è andata via Gire 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 Oh le Eh che derappata C'è la discesona qui Pericoloso Ti fanno nel fornetto Sentito Angie Perché non l'hai fatto nel fornetto Viena Oh le Gira gira Le pesante Gire 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 Oh madonna Ecco incasinato tutto il raccolto Guarda là come viene giù questo Demolito Ma lui l'ha grappata solo? No se te Treba se vai vicino con la lama Vedi che c'è la lama in giro Però il braccio ce lo devi mettere te Sì Ma è semplice Olè Finisco il campo e si fa merenda Che ci sa Ci abbiamo tanta fame Aia Gira 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 Aspetta Olè No lì su l'ho fatto a cacchi di cane Oh ma quanti albi abbiamo tagliato Eh intorno poi è pieno di ceppi Se vai a vedere l'episodio delle viste serie Che la prima volta vedi un bosco enorme Ora non vedi più nulla Abbiamo potato il mondo La deforestazione odn Girare Allora qua non c'è Ah qua c'è delle pinze Ecco dove erano Ok Ok anche sto campo E' più o meno andato Gira Facciamo così Ah lui se la tastia a memoria Fa le sequenze Eccolo Lo lascia qui Ma dove lo porto questo Eh vai dritto E poi Ancora dritto Ah in questo Destra Ok bravo Un po' messo a cazzo di cane Oh Oh Dai che ti demolisco Su Eccolo E com'è che si stacca questo Lascialo pure così Si spegne? No Con la Y Si stacca con la Q No il trattore come lo spengo Con la Y E' già spento Ah sento il tuo Porca miseria Eh si sento il tuo Senti la mamma Cina Come facevo uscire dal mezzo Però Oh cos'è Minchia All'intanto mi dimentico i pulsanti Vado a prendere la merenda Ok 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 Ciao aerex Ciao aerex Ciao aerex Oh grazie Oh grazie Bella Andre Ahah Ok Ora si fa un po' di merenda Quanti tronchi mamma mia Oh non finisci più eh Senti ce ne saranno spazi ancora Eh Taglia Eh quanti follower su Twitch Sì Cavolo L'ho appena letto Guarda qui Chionna Oh All'epro Eh quanti Siamo a 69 ora Voia Oh Ok Finiscono tutti Finiscono tutti Tronchi tronchi dove siete No Ahah Ahah Non so se la comincia a fare così sul vetro Dele cose che hice Quello potrebbe essere un grande problema Hai fatto a te questa? Angela Buona Ah vabbè non c'ho le cuffie Miau Allora Mmm Guarda va via anche il ramino piccolino Non c'è solo il punto preciso No c'è solo il punto preciso Piano Esi freno me li fa tagliare Hai detto Se io taglio anche questo Non me la taglia Ho Allora 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 Miau Sai che è quasi finito Non ti manca molto Cosa scherzavo? Facciamo un rapido giro Eccolo c'è un altro qui Oh yeah Allora vediamo un po' qua Allora qua non c'è rimasto Si c'è qui ancora Voila Grazie Edouard Cosa faremo? Provo ora stiamo giocando a farming Quanto farete? Ha scritto cosa farete Olè? Eh, l'ho vista Ok 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 Sapete vero che siete i migliori youtuber del mondo Grazie Ma da A farming però Ok Facciamo ciò che ci piace E taglialo Guarda qua come sta Non si taglia Non si taglia Ok Quanto Quanto Allora 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 Siamo Allora Allora Grazie a tutti. Grazie a tutti. E se no devo stare un po' qui... A prendere tutti i ramescelli. A te quindi è finito di seminare? Sì, a voglia. Allora dovresti fare... Sare sul cosino verde. Quello si sa... cosa avevo io prima. Quello. Ti aumenti il tempo. E te man mano prendi il pancale quando si blocca il macchinario e lo metti dentro il magazzino. Però ti conviene prima svuotare il cippato lì con la pala. Che è lì dalle mucche. Dov'è la pala? Dalle mucche. E... dov'è la... Eh, sgancia questo. Con la Q, vero? Sì. Pum. E poi devi andare... Dalle mucche. Dove stanno le mucche? Vieni qua dove sono io. E dai. Miau. Oh cazzo l'acqua. Eee. Oh, è deravata. E poi dove sono le mucche? Segui la strada lì. Questa? Mh. Marcatra. Ma che visuale c'ha? Oh, perché va così? Oh. Aiuto. Oh c'ha il braccio. Ma c'è sempre stato il braccio? Oh. E poi? E poi vai avanti. Sulla rampa c'è la pala. Eccola. Eee. Attaccata. Secondo me il super pacing è un carro forte? Sì, ma non è male come carro. Eh, piano. Oh. Ok. Passimento piante non c'è. E poi? E poi ritorni là perché c'è lei. Aspetta così. Anzi, faccio una cosa. No, no. E' uscito. Mi fa rientrare, sì. Sì, sì, la vuoi. E' uscito. Tan 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 tan. Ehi, vai, vai. Sì, è il troppo. Oh. Oh, ande. Ciao, Eduardo. Ok. Eh, però non si vede più nulla. Arrivo. Ah, ho la tagliato di... È quello? Oii. Questo ti piglia. Uh, tutto piglia. Eh, ora man mano fa tutte le altre cose. Che prima li taglia, non capisco perché. E poi dopo le cose. Nah. Sto entrando. Siamo già a 2 giga di live. Vedi, qui sopra. Te lo dici. Ah, 2 giga. Sono ancora sul camion di prima? Sul trattore? Mi sa di no. Ahia. Ahia. Richiudi il gioco. Perché se bloccao? Eh. Tu dici? Mm. Faccio la partita a waterton, ok. Allora. Non è qui. Sì. Taglia, 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 taglia. Ok. Oh. Inoltre c'è il spuglio tolto. Guarda questo. Niaaau. Può tagliare? No. Questo no. Quanto lo taglia? Eh, questo è un ambro intero. Eh no, questo no. Eccolo. Si rientra. Com'è mai? Eh, non lo so. Lo facevo anche ad avere lì. Ho fatto la memoria. Prova a chiudere e riaprire il server. No, fai una cosa. Quando viene inizio, quando fai inizio, aspetta tipo un minutino. Ah. Questo me lo fa tagliare. Via. Allora. Ah, c'è questo. Vediamo un po' quanto. Uno. Uno. Mi ha girato e mi ha ucciso. Dove giochi, Edoardo? Vuoto su computer? Su Xbox o su cellulare? Guarda qua, che bel pulito. Cacchio. Poi dopo li ripientiamo bene? Eh sì, dopo sì. Ce l'hai già al macchinario? No, l'ho comprato. Ok. Eh, via. Arrasando il mondo. E dai. Vediamo se ce la faccio a sto giro. Non ce la fa tagliarlo. Su, su. Come si dà allo? Ok. Devi muovere un po'. Fai così. Oh, questa me la taglia. Bastardo. Miau. Vediamo se la taglia. 10%. Non fa. Fa veloce. Non taglia. Dai, che ce la fa. Prova? Mazzò. Perché ho cambiato la grafica? Perché ho messo su alto? Invece era. Rimetto altissimo, allora. Purissimo, levissimo. Riprovo, se no esco. E' travo il punto giusto. Ok. Non lo sai, via. Ora rientro. Questo lo portiamo laggiù. Eccolo. Prima non l'aveva affatto, lo sai. Non mi sa. Fa voler essere 30 secondi, salvia. Nulla, allora aspetta che esco, rientro io. Sento il rumore, ma... Un va. Tac. Escirà? Vediamo un po'. E' uscito. Buono. Allora, crea. Un'azete c'è, c'è la bestia di già. Si***. Un'azete c'è. Un'azete d'acca ysoli. Un'azete c'è. Oh Madonna Io guardo Andreone Non ci ho perso Dov'è l'ultima volta Perché c'è la neve Sto tipo grandinando Porca troia Aspetta blocco in tempo Mi piace brutto tempo Non ci sono le stagioni No Guarda figa No C'è tutto vuoto Anche il bracino Quanto è shippato Oh Ciao Butta Ma come crash Ok il gioco funziona Quindi boh Perché non va un cazzo Guarda le abeo che cascano A caso Voila Ciao Ciao Facco Ciao Benvenuto 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 Proviamo a rivedere Se ci riusciamo di nuovo Hola Oh Che mi fa Apri il culo Piano Ecco Carlitos Ce la farò Questa volta 92% 92% Oh Dai Oh Mais Un cazzo Un cazzo Oh cazzo Eh vabbè Aspetta Non mi fanno come Come aveva fatto Quell'altro Provo a chiederglielo adesso Oh c'è il mais in offerta Io vado a vendere Ciao Abbiamo un po' di mais 100.000 Come fai a venderlo Ah A parte per dove Ah Cambia anche di posto in posto Sì A deposito a merci 651 Come mai Va a scatti Le altre stream Le vedo fluide Mmm Molto strano Dovesti riuscire a vedere Anche la nostra Fluida Forse è una connessione Un po' bassa Dato che stiamo Streamando in 1080p A 60fps Ci può stare Ci può stare Eh anche perché Se non facciamo la cosa Degli iscritti Qua sui follower Eh già Mi sa che non possiamo Cambiare la Cambiare tanto la qualità Eh rieccoti Edoando A me fa Fruidissimo Guarda qui Va bomba proprio Eh no La qualità Non si può cambiare Ah già è qua No a me va Niauuu Minchia come Saltavi Su Poi non lo fa Anche a me Vedi il caricamento Eh boh I misteri Colza Mais 164.000 E quanto ci saranno? Eh valutate un po' poco 651 E abbiamo un bel po' di soldini In realtà faremo un po' di viaggi su e giù Eh se ci fossi cacchio Non mi fa entrare Dopo ci riprovo Allora giù di qua Sono anche pronti i campi Cavolo Chi ha delle buche Madonna Chi ha delle buche Aia Poi interior ho messo una mod che Simula Il carico Cioè Il video si vede che Lui prova Con il rimorchio vuoto E ci mette Arriva in fondo alla casa A 40 Ah capito Mentre con il rimorchio Pieno Lo fa stessa cosa Però arriva tipo a Oh ma è già cresciuto? Sì Questo è un altro campo però Oh non è nostro Cazzo Oh che culo Ah qui forse c'è il treno Coppia copia Non so se era andato Era partito l'altra volta Cosa? Il trenino Sì ma mi pare che Non dava soldi Forse poi l'altro Non dava soldi Eh 20.000 euro L'abbiamo fatti quasi 19.5 Guarda ricordarsi la strada In mezzo alle fresche frasche Guarda come si va Corre tantissimo Perché è vuoto Eh sì Ok siamo nel nostro campo Qui Oh Ok di qua Oh Numeri Dove lo metti? Ah ci abbiamo qui Voglio girare Ok Ce la fa? Ce la fa al mais Ma ci sta dando un po' di sordi? Hm? Ah no Devi ancora venderlo? Sì Devo vendere tutto Ma l'hai già venduto un po'? Un cosa sì E quanto ti ho dato? 19.500 euro Con un carico? Con un carico E quanti carichi abbiamo più? Qua ci sta 32.000 Dov'è? Ancora 100.000 Eh cazzo Forse un 100.000 E lo facciamo anche di più Più o meno E vai a strada C'è da per Ora vanno più lento Ora si vede l'accelerazione Siamo ancora Ed è grazie alla mod Se non dà la stessa velocità Di come va sempre Eh cacchio Per quanto ci mette arriva a 50 Vuole anche in discesa Eh le magie di capone Quello funziona Quello funziona sempre Raga ho fatto 6.000 Esperienza Mamma mia Eh Bravo Con quale carro? Oh oh Vediamo un po' Quanti soldini ti dà Siamo a 98.000 Aumenta Aumenta Ma aumento Minchia Porca troia 20.000 più o meno 20.000 Quasi 21.000 Te lo dice alla fine Te lo dice Sì aspetta questa roba Tanto Brighiamo fra i tasti Ok Riproviamoci Abbomba Popi popi Abbombazza Ma sono whatsapp? Mh Aia Non so magari Ale Non lo so Dovrebbe farla anche a me Questo è un altro messaggio Ce la faremo? Sta minchia Devo restaurare il gioco? Ah no In teoria no Ho fatto anche l'integrità Ho fatto la verifica C'è la grafica Boh Riprodo a rimettere Quella al massimo E' strano Eh Molto Anche perché Per una cosa così Salva OLE OLE NINCIA Che salti che fai Eh salto non mi piace Anche questo è pronto Vero Sì tutti pronti sono Eh guandati Oh No alla fine Si è rotto Si blocca perché Si è rotto Provo a toccare lo sportello Sulla Sulla Geforce Cosa Tocca lo sportello Guarda se è caldo Pochino Si Ma anche il mio è così Di solito Ma Nada E' rotto Fa fortello Manco risponde Ce l'hai ancora le mod Si perché Vogliela e rimettere Tutte quante E vai Niente i soldi Sì 140.000 Sa che ho ancora 3 carichi Forse forse 60 80 Eh Arriva a fare 200.000 E che prendiamo Forse poi il latte Con l'avena del latte E vai alla strada E cosa prendiamo poi Depende da un altro trattore Perché Non abbiamo trattori Abbastanza potenti Beh al massimo Ne vendiamo un paio No 68.000 Quindi questo è penultimo E al 180 arrivo Se arrivasse anche Quella del Lodge Del frumento Della colza Eh la colza Quella che dà di più Vero Eh si La colza si Sarebbe il massimo Come scende qui Spettacolo Giù Giù Traverso Controlla 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 Ahia Il rivolchio Oh oh Dov'è la strada Si è perso Beh beh Vai che non c'è Recensione qua Madonna Fai il giro Già Facciamo sì Ecco For più racing 160 20.000 E 8.000 0.9 809 Ovviamente Guarda qui le russate Che stiamo lasciando Eh peccato che non si Rovina il raccolto Eh c'è Però non so come si chiama Non riesco più a trovarla Non l'hai provata? Eh l'avevo intravista Poi ho detto Vabbè non sarà per 2015 Allora Non posso stare Ma la vuole mettere Ahia Qualcuno lì non ha seminato Fatta apposta Fatta apposta Il triangolino delle bermuda Il triangolino delle bermuda Mamma mia Come sale Dobbiamo fare disegni Facciamo Ultimo carico Lo finisci tutto proprio Il mais No Rimane Intorno agli 8.000 Nel silos Quanto ci mette A salire di velocità È molto più lento Sì sì Oh oh Fai una fai una fai una Oh 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 Non mi riuscire Ma il carrello si muove Sa di no No Perché è pesante Su alcuni carrelli lo fa È vero perché facciamo tutti i cazzate È vero È vero Che lo fa Che lo fa Madonna Ah via Sì è il mio gioco Tocca di installare Eh beh Come gliene dai Oh per poco 180 181.000 Bello come sta A base Non c'è che ti Stracca E questo che fa Non ti darò Altri soldi Se funziona Ancora non ho capito A che serve Ma quando lo sorpassa Ma c'è roba dentro E se ci sbatti contro Dai non succede nulla E se ti trapassa No Se ti metti in mezzo Le rotaie No Ti porta Ti butta via Tocca di installarlo Madonna Oh 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 Ok Questo Siamo a posto Guardi i soldi Porca troia È il treno Aia Bisogna farlo prima Il treno Cacchio È il treno Quando finisci di vendere Perché ti porta la roba di là Ti porta Boh Qualche soldo bonus Vendiamo i mezzi Cosa possiamo vendere No no Questo ci serve Eh si stanno lavando In che senso si stanno lavando Vedi che è più Ah si con l'acqua si pulisce Eh si Ah Che figo Allora Questo Ecco le voglio comprare io Costano un botto di soldi Questi qua Mi fende Come mai questi Ecco sono fatti bene 10.000 euro per avere 2.40 O 2.20 I cavalli 200 E quelli che abbiamo adesso Più alto Quanto ha? Allora Il trattore più potente Che abbiamo ora Quanto c'è? Eh sto cercando 4.10 2.15 E quanto costano? Questo Guardando se ne bocca un po' Nanta Proprio lo cambiare Sì fate Questo Mi ricordo come sono Quello tutto nero Quanto costa? 3.15 3.40 Cavalli E quell'altro? Questo? Eh 2.15 Cioè 2.63 Però Questi qua Hanno le forche In teoria Spero Se sbaglio ne compro uno Sì in teoria sì Perché Nel pacchetto C'erano anche Questi Vedi C'è chi è questo? Ah Ho capito Quindi 2.40 2.20 Anzi 2.20 E 2.100 Qua è 2.20 Quanto vuole al 2.40 2.40 Aspetta 2.11 2.10 Mia Aspetta Adesso Siamo Ok 2.40 Vai Che colore Colore lo lasciamo così Che bello Sì Gnichia Per i soldi 53.000 Ci sono rimasti Vendiamo questo Che non serve più a nulla E il peso Perché ci compramo il peso Bello Ah sì Ah sì Ok Ok La metta un po' il tempo Sennò qui non si taglia Un po' il tempo Guarda che bello Oh guarda che bellino Piccolino Sei pronto? Guarda Prontosso Wow Guarda figo Che professional Ma sale così Sì Sti cazzi Senti suona NANANANAN Tutta birra Guarda Guarda Ride control Ride control Sennò Anteriore Alza Bassa Porca Macca C'è un sacco di tastini Dio Mesta Dio Sento Guarda si cambia il gioco La PTO Attiva 4VD Eh la so Serve il drive control Non lo faccio Ciao Me picca Guarda Oh Tutto il computerino Quella cosa fa? Ah cosa serve? Missing Auto tractor No Guarda Il posto del passaggero Chissà sia da 2 Beh se c'è dovrebbe esserci In teoria 16.000 Un caricatore frontale Un bagno Sbagliato Pesi 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 oh ma come si vede bene bello sto trattore e quelle forche lì è dovuto comprare ma quindi può fare il lavoro anche di quell'altro per quello avvenuto quella ne so quello è peso per dietro si per dietro per davanti solo che lo porto via così c'è anche i giri del motore lo si tira subito attenzione un valente a sé come tira come tira bello bello si cavolo ha fatto benissimo in full hd dove lo porti? qua fattoria olè guarda figa la marmita sti cape olè ah guarda che c'ha anche che cosa per tenerlo assurdo ho fatto veramente l'addio mh mh davvero bello dall'altro se non erro poi ci puoi attaccare le robe anche davanti per farla funzionare guarda quanta roba c'hai è l'italiano che l'ha fatto bello 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 che facciamo? offriamo la live? mh mh che siamo già a 3 giga eh sì parcheggio qua olè voilà che spettacolo tutto a posto? le mucche 40 mucche eh? eh sì ho comprato 10.000 l'altra volta sì 10.000 eh 10 sono tutti qui dentro guarda quante pieno di mucche ebbene ragazzi è l'ora per questa live finisce qui ci vediamo alla prossima ciao 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 vediamo un po' se riusciamo a chiuderla da lì su in alto oh questa così sì